Tu e Belen state ancora insieme? Ha chiesto una follow.Si, è stata la risposta di Iannone che non ha mancato di rispondere, anche alle domande più provocatorie, come ad esempio Quanto è Dio? Asterisco a Belen Per me unica replica di nuovo prontamente lui, rivelando un lato romantico e tutto il suo affetto per la fidanzata Ma una volta che i followers di Andrea Iannone, ammiratori anche di Belen Rodriguez, hanno notato che il campione era particolarmente propenso a rispondere alle loro curiose domande Hanno continuato a spingendosi sempre più in là? Quante volte fai sesso con Belen? Chiede un altro utente, aggiungendosi alla conversazione virtuale su Instagram Iannone risponde ancora una volta con diplomazia, è davvero signore? Con una risposta che non sminuisce minimamente la bella Belen Rodriguez, dichiara Mai abbastanza Insomma, Belen Rodriguez e Andrea Iannone non solo non sono in crisi, ma sembra proprio che la loro love story continui a gonfie vele, con sempre più entusiasmo e passione Ricordiamo che i Andrea e Belen hanno iniziato la loro storia nel 2014, e da quel momento non si sono mai lasciati ufficialmente, nonostante i rumors, e le continue voci che li volevano la loro rottura Foto credit Instagram, leggi anche. Cecilia Rodriguez in vacanza, il suo bikini rosso fuoco infiamma il WB